Ecco, futuro 2016, siamo qui con l'ingegner Marco Pezzaglia del Consorzio Italiano Biogas. Il titolo del tuo intervento si chiamava Reti elettriche, biometano in dialogo. Cosa vuol dire? In estrema sintesi significa utilizzare la produzione di biogas, che contiene metano, quindi biometano, metano biologico e utilizzare questa fonte per una produzione modulata di energia elettrica. La modulazione su ordine del dispacciatore riesce a dare un contributo positivo a quello che è la sicurezza del sistema, perché il sistema ha bisogno di produzioni che inseguano il carico, che è un carico variabile, perché le fonte rinnovabili da vento, da sole, vanno a seconda della disponibilità della fonte. Quindi a favorire la penetrazione di queste fonti serve che altre componenti del sistema riescono a modulare il sistema, tanto più se riusciamo a farlo con una fonte a se stessa biologica, cioè il biogas che contiene il biometano. E questo è il primo aspetto. Ma perché il biometano? Un'altra accezione ancora più specifica, se vogliamo. Perché il biogas può essere utilizzato per produrre energia elettrica, ma può essere raffinato per produrre il biometano. Allora, data la produzione di biogas che esce da un digestore, che è una produzione più o meno costante, io posso destinare questa produzione di biogas alternativamente alla produzione di energia elettrica, ovvero al biometano, senza perdere una molecola, senza buttare via nulla, modulando la produzione di energia elettrica, facendo del bene al sistema elettrico. Quindi in questa maniera io metto in dialogo quella che è una fonte, il biogas e il metano, e il biometano con il sistema elettrico. Ma c'è anche il reverse, c'è anche il di più. Ammettiamo che il sistema elettrico, in certe condizioni, e si stanno verificando queste condizioni, in cui c'è molto vento e molto sole, produca molta più energia di quella che serve al sistema. Cosa si fa tipicamente? Si decurta la produzione da vento e da sole. Bene, allora noi diciamo no, non si butta via questa energia, non si butta via questa fonte che arriva, la si produce lo stesso, la si converte in idrogeno attraverso i meccanismi di idrolisi e poi l'idrogeno lo si combina con un altro elemento che esce dalla digestione anaerobica, cioè la CO2, che il biogas è metano, biologico e CO2. La CO2 con l'idrogeno forma ancora metano e il metano viene rimesso in rete e ritorna nel circolo dell'energia. Non ho buttato l'energia primaria, vento e sole, l'ho riconvertito in una fonte utilizzabile, modulabile, il metano, e l'ho rimesso in rete. Ho messo in contatto il sistema del gas naturale con il sistema elettrico in maniera virtuosa. Ed è anche economia circolare, non ci sono scarti, non c'è nessuna perdita. È anche economia circolare perché se a questo associo un modo virtuoso di produrre il biogas, cioè chiudo un cerchio a monte di produzione del biogas in cui utilizzo scarti, utilizzo sottoprodotti, ma utilizzo anche un modo nuovo di utilizzare il terreno, che è il concetto del biogas fatto bene, quindi un'agricoltura che produca sia per il cibo sia per il digestore, e attraverso il digestato riesca a rifertilizzare il terreno, e attraverso una serie culturale di questa natura si riesca a fissare più CO2 di quanto non si mette in atmosfera. Ecco che ho fatto, ho innescato un nuovo corso. Ho innescato un corso in cui produco energia elettrica o produco un metano biologico, produco un'energia elettrica compatibile con la sicurezza del sistema, do un contributo alla sicurezza del sistema, e tutto questo è un CO2 negativo. Una parola sul biogas fatto bene, che è diventato uno degli slogan più importanti del CIB. Il biogas fatto bene riprende il concetto che proprio dicevo prima. Innanzitutto il nostro sistema ha un bisogno intrinseco che le cose siano fatte bene. Fare bene significa rispettare le regole, rispettare le condizioni, perché questi impianti possono essere fatti, possono essere inseriti nel territorio, e non danneggiano il territorio, e diano un contributo positivo anche a tutto il territorio. E questo è un aspetto, se vogliamo, elementare, l'ABC del fare bene le cose. Ma c'è anche un altro fare bene, cioè che è il fare bene nel senso che, prima dicevo, di riduzione della CO2, cioè un fare bene all'ambiente per davvero. Il digestore, all'interno di un'azienda agricola, è un essere vivente, come può essere una grandissima stalla. Questo essere vivente viene alimentato ed ha, di risulta, un altro alimento che il digestato per il terreno. Il modo con cui alimento e chiudo questo cerchio può essere fatto in maniera rispettosa con l'equilibrio ambientale di tutto il contesto in cui il digestore si inserisce. Quindi fare bene il biogas si rifà a questi principi. Grazie mille e buon lavoro. Grazie.